sono le 5 e un quarto abbiamo deciso di fare i brownies così facciamo facciamo merenda vi faccio vedere gli ingredienti morena seguirà una ricetta che ha trovato su youtube sai qual era il canale ha detto di no allora vi faccio vedere ciò che serve 100 quanto burro more 150 150 di burro 20 grammi di cacao amaro 180 di cioccolato fondente però noi abbiamo abbondato abbiamo messo 200 grammi due uova quanta farina 90 grammi di farina 200 grammi di zucchero e un cucchiaino di lievito per dolci quindi se vi fa piacere seguite la ricetta insieme a noi allora qui abbiamo già preparato i pentolini per mettere il cioccolato e farlo sciogliere a bagnomaria ragazzi a questo punto seguite la ricetta di morena iscriviti al canale grazie a tutti grazie a tutti allora ragazze noi mettiamo il composto in questa teglia in una teglia molto piccola e inforniamo a 175 gradi per 30 minuti allora ragazze il dolce era buonissimo sono avanzati questi due pezzettini li teniamo per fare colazione domani mattina e ora noi ci sistemiamo così usciamo un po e nel caso ci vediamo domani mattina ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora ragazze, noi abbiamo fatto tardissimo, abbiamo preso una pizza da sport e ora stiamo andando a casa. Allora ragazze, noi abbiamo preso una pizza da sport e ora stiamo andando a casa. Allora ragazze, noi abbiamo preso una pizza da sport e ora stiamo andando a casa. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi per me è sabato, un sabato tranquillo perché non ho nemmeno intenzione di uscire, perché non ho bisogno di acquistare niente. Ho già fatto colazione, ho già preso il caffè, quindi oggi mi dedico alla casa. Mi dedico alla casa così domani se riusciamo facciamo un giro o la vediamo da qualche parte. oggi tanto lavorano tutti, Morena è a scuola, quindi non c'è nessuno e mi posso dedicare tranquillamente alla casa, perché come si sa quando ci sono i figli mariti in casa è un po' un casino fare grosse pulizie. Bene, noi ci vediamo dopo. Allora ragazze, c'è troppo sole, quindi non so se si riesce a vedere bene, però volevo sapere se qualcuno sa il nome di questa pianta che fa le foglie enormi. infatti, vedete, già sta uscendo l'altra e questi due stavano qui al lato. Per farle crescere più, insomma per dargli la possibilità di crescere le ho messi in due vasi separati. Quindi se qualcuno sa come si chiama me lo fa sapere, me lo scrive giù nell'info box, cioè no scusate, giù nei commenti. Domani che è domenica ci dobbiamo dedicare anche al prato, perché ha una crescita molto veloce. Domani che è domenica ci dobbiamo dedicare anche al prato, perché ha una crescita molto veloce. Ragazzi, vi volevo far vedere questa mongolfiera con questi orsetti erano sulla torta del battesimo di Denise e la scritta Denise è in legno ed era sul tavolo sempre della torta del giorno del battesimo. In più questa, ecco ora si vede, perfetto, questa è la bomboniera del battesimo. Denise ha il vestitino del battesimo, le ho messo qualche giorno prima, abbiamo scattato le foto e abbiamo fatto trovare agli invitati già questo portafoto completo. mi sembrava la cosa più giusta a mettere la foto della bambina. a mettere il battesimo. a mettere il battesimo. A mettere a mettere il battesimo. Ragazzi per me è tardissimo, ho fatto un po' di pulizia, alcune le avete viste, alcune perché ammettere e togliere il cavalletto poi avrei fatto un po' tardi, per me è già ora di pranzo, ho già sistemato anche il pranzo, però il vlog credo di chiuderlo qui perché altrimenti viene troppo lungo e non riuscirei a editarlo in tempo, quindi noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un abbraccio, iscrivetevi al canale e attivate la campanella e se vi va mi potete seguire anche su Instagram, mi trovate sia su Instagram che su Facebook che su Youtube come Angela Di Trani, ciao!